ZOOM! SIGLA! Allora, finalmente posso parlare di un film che sto aspettando con una trepidazione incredibile e che da noi è arrivato parecchio in ritardo al momento che è uscito da pochi giorni mentre gli Stati Uniti d'America è uscito a giugno insieme all'Independence Day come spesso accade siamo gli ultimi a vedere certe perle però negli ultimi anni è capitato che film molto attesi fossimo tra i primi a vederli comunque sia mi riferisco a Pelicolo 2016 per la regia di Andrew Stanton con la co-regia di Angus McLean ed è alla ricerca di Dory dunque, io non impazzisco per i seguiti di Casa Pixar perché se c'è una cosa che adoro di questo particolare studio dell'animazione e che lo contraddistingue dalla concorrenza rendendo a mio parere il migliore per quanto riguarda l'animazione di stampa occidentale è il fatto che ogni film prodotto da questo studio sia un piccolo sogno che diventa realtà sono film originalissimi che partono da idee sensazionali ecco, per forza di cose un seguito perde un po' per quanto riguarda il fattore originalità perché sì, la storia può essere interessantissima i nuovi personaggi aggiunti intrigantissimi però difficilmente potrà essere originale quanto un film che parte da un'idea nuova è logico però diciamo che la Pixar è riuscita a realizzare anche seguiti strepitosi ad esempio Toy Story 3 secondo me è uno dei film migliori della Pixar e del terzo capitolo di una saga ovvio, il primo è totale e assoluto perché è stato importantissimo proprio dal punto di vista dell'animazione ha sdoganato l'animazione in 3D da lì in poi gli altri studi si sono adeguati Disney compresa con molte difficoltà che penso tutti saprete si è ripresa solo relativamente di recente e quindi è lì come un pilastro però il terzo capitolo dal punto di vista emotivo è qualcosa di devastante perché è cresciuto insieme agli spettatori del primo film proprio è come se tu vedessi l'evoluzione naturale del primo Toy Story cioè sono riusciti proprio a imbroccarlo però non ho apprezzato per dire Cars 2 già il primo non è che lo ritenessi questo gran filmone ma ci poteva stare il secondo secondo me è un film mediocre nel senso che è perfettamente nella media dei film che escono adesso quasi non sembra un film Pixar ma so che molti lo hanno apprezzato per fare un altro esempio Monsters University a me era piaciuto però anche lì non era secondo me a livello degli standard a cui la Pixar ci ha abituato negli ultimi anni perché ad esempio era un sequel che non teneva conto di tante cose che venivano dette nel film precedente c'era delle incongruenze mostruose e la Pixar di solito fa attenzione a certe cose dopo quel film infatti si sono presi un paio d'anni di pausa per trarne poi in bomba con Inside Out e poco dopo con il viaggio di Arlo aveva avuto delle vicissitudini produttive non indifferenti a un certo punto avevano dovuto interrompere tutto per riscrivere la sceneggiatura il regista abbandonato insomma diciamo che è un film nato purtroppo male che non è stato nemmeno pubblicizzato perché tutta l'attenzione è stata catalizzata a Inside Out o meglio lo hanno pubblicizzato ma molto meno rispetto a Inside Out o altri film Pixar che sono usciti negli ultimi anni c'erano giusto i banner su Facebook i tre su YouTube però non c'è stato un vantage pubblicitario adeguato a mio parere e la Pixar è capitato che magari non riuscisse a fare un film strepitoso come al suo solito anche se partiva da un'idea originale come ad esempio Ribelle The Brave che ha vinto l'Oscar è stato apprezzato da molti secondo me non è sto gran filmone che tutti dicono mostruoso appunto in vista grafico ma in sé secondo me è un film che ci può stare ma ripeto gli standard Pixar per me sono molto più alti di così comunque sia ciò premesso io non sapevo che cosa aspettava di andare a ricerca di Dory perché da una parte ero contentissimo di rivedere i personaggi che avevo amato nel primo film che ha diretto da Stanton con la corregia però di Lee Unkrich che qui invece è stata fidata per appunto Angus McLean dall'altra invece temevo che questo seguito risultasse una coppia a carbone del primo film peraltro sono passati 13 anni non sapevo se questa cosa fosse secondo me giusta nel senso che un seguito dopo così tanto tempo potrebbe non avere senso però stiamo parlando della Pixar ho voluto dare fiducia e poi tra le altre cose l'hype mi è cresciuto perché qualche mese fa il scorso giornato di stile di cinema di Riccione ho visto in anteprima i primi 20 minuti e porca di quella puttana se mi erano piaciuti quindi ero curiosissimo di vedere il film completo adesso che l'ho visto posso dire che la ricerca di Dory è veramente strepitoso secondo me si pone più o meno a livello della ricerca di Nemo forse è un gradino piccolo sotto proprio perché non c'è l'originalità che aveva il primo film non è più la novità ma è solo questo che lo rende leggermente meno bello dell'altro perché comunque è migliorata la grafica le animazioni sono qualcosa di pazzesco e i personaggi nuovi che sono stati introdotti a me hanno fatto letteralmente impazzire a partire da Hank il polpo che mi rimarrà sempre nel cuore è un personaggio tipico ma che ha un'evoluzione lenta è bellissima anche se prevedibile mi è piaciuto veramente tanto poi avevo questa espressionità incredibile nonostante di fatto non avesse la bocca perché è un polpo quindi non solo gli occhi la bocca c'era ma non la si vede poi ha anche una particolarità che non vi voglio dire e un'altra domanda che mi ero posto era ma un film con protagonista Dory non risulterà pesante perché di fatto nel primo film Dory era un comprimario sapete che la ricerca di Nemo vedeva come protagonista per il proprio Marlin che cercava il figlio scomparso insieme a Dory che aveva incontrato poco dopo la scomparsa del pesciolino e poi la storia di Nemo che cercava di sopravvivere nel luogo dove lo avevano portato dopo averlo pescato e quindi c'era questa alternanza tra le due storie che era molto interessante Dory come personaggio secondario funzionava benissimo però il fatto è che con la questione che perde sempre la memoria che è un po' scemotta sopra le righe come protagonista forse poteva risultare pesante invece no perché hanno dosato moltissimo le gag che la riguardano senza renderle assolutamente difficile a digerire soprattutto in questo film si spiegano tante delle stranezze che caratterizzano il personaggio la struttura è molto simile a quella della ricerca di Nemo ma rivaltata se prima si dava più risalto a Marlin che cercava Nemo con Dory qui al contrario si dava risalto a Dory e a quello che sta facendo per raggiungere lo scopo che si è prefissata e poi si va a focalizzarsi in maniera secondaria su Mani e Nemo che vanno a cercare Dory perché l'hanno l'hanno persa quindi questa cosa mi è piaciuta molto ecco io prima ho parlato del polpo per quanto riguarda i miei personaggi introdotti ma ce ne sono un paio di secondari che sono i Leoni Marini che io vi giuro vorrei proprio il loro poster in camera sono fantastici già li avete visti nel trailer c'è quella scena famosa loro che allontavano l'altro di nuovo Marino dallo scoglio urlando per poi tornare subito a sdraiarsi a parlare con Marlin però il punto è che non è solo quella la scena divertente che le caratterizza fanno morire ogni volta che compaiono cioè davvero io ero lì che continuavo a pensare ti prego fa che li mettono di più perché sono veramente fantastici e io ero ero allibito dalla perizia con cui sono riusciti a gestire i tempi comici in quelle scene ma anche in altre perché davvero dal punto di vista delle gag è impeccabile hanno ripreso molte cose dal primo film facendole evolvere riproponendole come citazione ma senza esagerare insomma io penso che abbiano fatto un lavoro incredibile poi dal punto di vista registico ormai siamo a dei livelli altissimi quando si parla di film di animazione si può tranquillamente parlare anche di regia perché di fatto c'è proprio il tentativo di emulare le inquadrature dei film in live action Stanton è stato bravissimo è migliorato in maniera incredibile dal primo film anche perché l'ambientazione risulta ancora più realistica se ci pensate rendere realistica un'ambientazione sottomarina è qualcosa di difficilissimo perché poi oltretutto ci sono molte scene sia nella ricerca nemoca in questo film che sono ambientate al di fuori dell'ambiente acquatico e quindi bisogna che questo si noti infatti sono riusciti a distorcere le immagini quanto basta per far sì che sembrino ma appunto riprese subacquee rendendo il tutto però chiaro quindi ogni volta che un personaggio si muove ci sono delle bollicce entattiche che compagliono in maniera però sensata come se il movimento fosse avvenuto in un ambiente acquatico reale capito e il tutto deve differenziarsi rispetto a quando siamo nel mondo terrestre non era una cosa facile e poi che sono riusciti a farla ancora meglio che nella ricerca di nemo la cura con cui sono state realizzate le ambientazioni è maniacale è letteralmente maniacale davvero e anche il design dei personaggi soprattutto quelli nuovi che non erano presenti nel primo film è stato curato nei minimi dettagli io prima parlavo del polpo il polpo è pazzesco perché ha dei movimenti che sono di un fluido soprattutto se si pensa a che tipo di movimenti sono da farti sgranare gli occhi cioè oltretutto poi gli hanno dato questa caratteristica mimetica che torna utile dal punto di vista narrativo in molti momenti e graficamente rende tantissimo per quanto riguarda lo sviluppo della storia l'ho trovato veramente ben congegnato ben congegnato perché punta l'accento su diversi elementi allora l'amore in tutte le sue forme dall'amore genitoriale all'amore che si può provare per un amico quindi un'amicizia profonda e a quello che si è disposti a fare per l'amore verso una o più persone e hanno ancora sottotato tutto secondo il road movie quindi è un viaggio di formazione alla fine del quale i personaggi che l'hanno affrontato saranno cambiati hanno subito un cambiamento e devo dire che il personaggio che mi ha irritato di più qui è stato Marlin e questa forse è l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire del film allora Marlin nel primo film era un palo in culo ingessato da fa schifo alla fine della ricerca di Nemo lui cambiava perché capiva che non doveva più essere apprensivo come era stato in passato a causa di quello che era successo alla moglie e a tutte le uova che erano state mangiate dal pesce quindi era molto fastidioso nei confronti di Nemo e quindi lo vediamo che racconta la barzelletta agli altri genitori lo vediamo molto più spigliato qui per buona parte del film sembra che Marlin non abbia imparato un cazzo dal film precedente è sempre un palo in culo è sempre fastidioso tratta sempre gli altri come se fosse a pezzapiedi e lui fosse in possesso della verità assoluta vuole sempre fare di testa sua e puntualmente sbaglia perché non è lungiminante ed è abbastanza ottuso per quanto riguarda diverse cose e allora lì mi sono chiesto ma quindi l'evoluzione del personaggio dove cavolo è stata e sì che di tanto in tanto vanno a citare alcune cose che sono successe nel film precedente quindi si ricordano perché questo film alla ricerca di Dori è ambientato un anno dopo alla ricerca di Nemo e sì se ve lo state chiedendo sarebbe di gran lunga meglio se aveste visto alla ricerca di Nemo è uno di quei film fortemente collegati al capitolo precedente e che anche solo per la conoscenza del personaggio protagonista è necessaria la visione per forza se non avete visto Nemo sì potete capire lo stesso non è che non capite però vi perdete tante di quelle cose che secondo me è meglio se la ricerca di Nemo ve lo andate a vedere tra l'altro se non sbaglio c'era una promozione sul fatto che davano il long video della ricerca di Nemo se si prendeva il biglietto della ricerca di Dori se non mi ricordo bene come funziona ma c'era una cosa di questo tipo in alcuni cinema e quindi è facile recuperarlo quindi sinceramente questa cosa non l'ho capita perché rendere Marlin ancora così fastidioso capisco che è carattere per l'amor del cielo però sembra che non abbia vissuto le avventure che ha vissuto in la ricerca di Nemo capito? quindi poi poi subisce di nuovo un'evoluzione e quant'altro capisce per appunto tutti i propri errori perché comunque è un viaggio che questo di questo film che va a compiere anche lui quindi come ho detto prima tutti quelli che compiono questo viaggio ne escono cambiati però avrei preferito un minimo di evoluzione in più poi sono contentissimo che siano tornati i doppiatori del primo film infatti nelle edizioni inglese è sempre Albert Brooks a doppiare Marlin e Dory è sempre Ellen DeGeneres qui in Italia sono sempre Zingaretti e Carla Signoris la Signoris è un'attrice formidabile come doppiatrice secondo me vale tantissimo per Dory è perfetta lei è la moglie di Crozza tra l'altro nel caso non lo sapeste e aveva fatto tanto un buon lavoro nel primo film quanto riuscite a farlo in questo e se mi voleste chiedere se è anche questo film uno di quelli Pixar che commuovono sì assolutamente sì anche se devo ammettere l'ho trovato un po' più prevedibile degli altri con degli insegnamenti sicuramente profondi ma un pochino più banalotti ad esempio io ho apprezzato tantissimo l'insegnamento che era stato impartito da Inside Out insegnamento che raramente si trova in un film destinato a un pubblico di bambini e ragazzi che poi si amplia anche verso gli adulti sappiamo che i film Pixar possono essere tranquillamente fruiti tanto dai giovani quanto da quelli che giovanissimi non sono più infatti io sono andato a vedere i film era pieno di persone che raggiungevano anche i 60 anni d'età visibilmente quindi diciamo il messaggio di Inside Out era quello che la tristezza fa parte della vita bisogna abbracciarla non bisogna rifugirla perché in certi momenti è giusto essere tristi ci sta essere tristi non bisogna per forza essere sempre allegri non si può essere sempre allegri e questa è una cosa che un mammino è giusto che impari quindi è un film che rivalutava l'importanza della tristezza nella nostra vita quindi non da vedere come qualcosa di per forza malvagio ovvio se uno è perennemente triste e sta male è quello è un altro discorso poi si sta parlando della tristezza nei momenti giusti nei momenti qui è giusto essere tristi quindi è un messaggio che poi è stato veicolato in maniera ancora forse più profonda dal piccolo principe che però non è pizza nel film uscito l'anno scorso che a me è piaciuto da morire e quindi dicevo questo alla ricerca di Dori impartisce messaggi sull'amore e l'amicizia molto importanti forse però un po' meno originali un po' meno mai visti ok quindi qualcosa di già visto però realizzato in maniera impeccabile non è secondo me tra i migliori film pix a me usciti però è comunque pregevole è comunque un film dello studio di tutto rispetto diciamo che dopo quel piccolo svarioncino degli ultimi tempi ecco che si sono ripresi alla stragranda polibale le mostre gli universiti sono partiti in bombissima per cui non tenete la pixar è tornata in compagna quindi mi è piaciuta molto la storia perché Dori ha un passato scuro nel senso quando abbiamo visto ricerca di Nemo tutti ci siamo chiesti ma Dori tutte queste cose che sa queste bizzarrie che ha imparato dove le ha imparate cioè chi è lei non ha una famiglia quindi si cerca di ripercorrere le origini di questo personaggio straordinario e il film lo fa in una maniera abbastanza peculiare attraverso questi flashback improvvisi che però sono tenerissimi perché la piccola Dori è qualcosa che ti scioglie il cuore è fantastica perché capisci che lei non è mai cambiata dall'ora cioè la chiave del personaggio sta nel fatto che l'unica cosa che cambia dalla Dori piccina alla Dori adulta è la voce e l'aspetto perché la Dori piccola ha questi occhiali giganteschi da grande lei non ha perso l'ingenuità che ha sempre avuto non è mai mai cioè nel senso non è cambiata il carattere ma è maturata sicuramente il viaggio che ha compiuto con Marlin l'ha fatta crescere le ha fatto capire delle cose di se stessa però di fatto la sua mentalità il suo modo di essere non è mai cambiata da quando era piccolina e questa cosa è bellissima perché Dori è un personaggio puro è un personaggio che si pone al di sopra di tutti gli altri perché ha un modo di pensare che non segue i normali schemi di pensiero delle persone logiche e che quindi la rende straordinaria la rende veramente straordinaria già lo era nel primo film in questo lo è ancora di più oltretutto io non credevo che avrebbero spiegato alcune sue cose strane e quando lo fanno beh fa morire da ridere perché poi comunque è anche bello che abbiano preso come ambientazione avete visto anche la questione del parco oceanografico tra altre cose nella versione italiana la voce del parco quella che si difonde d'altoparlanti è quella di Licia Colò che fondamentalmente interpreta se stessa che dice ciao sono Licia Colò capite ci sta ci sta perché di fatto usa il suo solito tono documentalistico professionale e in lingua originale invece è la voce quella di Sigourney Weaver che è sempre la voce di se stessa sempre Sigourney Weaver che dà il benvenuto ai visitatori del parco e è bello perché comunque hanno utilizzato alcuni stereotipi alcune cose intrate nell'immaginario collettivo quando si tratta di parchi di rilettimento eccetera e li hanno utilizzati in maniera secondo me veramente simpatica c'è una scena particolare che riguarda il polpo Hank e Dory che secondo me fa ammazzare da ridere perché è una cosa effettivamente realistica in generale comunque l'ambientazione del parco è stata resa veramente bene perché comunque è stato anche un modo per presentare in maniera alternativa altri personaggi quindi non più solo i pesci dell'oceano ma anche altre creature acquatiche che per l'appunto sono ospiti in questo posto e per quanto riguarda il doppiaggio italiano hanno utilizzato voci personaggi famosi ma in maniera secondo me intelligente perché alcune manco si riconoscono ad esempio non vorrei dire una cazzata ma c'è questo pesce che dice solo guarda dove vai ma dice solo questo che secondo me è Frank Matano sono abbastanza convinto ma dice solo scusate questa frase un paio di volte non so se sia per via della sua apparizione vocale in Zotropolis in cui doppiava la donna a Donnulesi anche lui aveva pochissime battute quindi non è che rovinasse il film una cosa del genere nonostante o lui non è un doppiatore professionista quindi si nota si nota tantissimo però poteva ancora ancora starci e quindi magari per questo incontrato l'hanno piazzato qui in un cameo forse perché era piaciuto non lo so però magari non è neanche lui però non ho trovato non ho trovato effettivamente un accredito in questa cosa però so che ha sponsorizzato in recente il film quindi può essere che abbia fatto questo piccolo cameo vocale che non è assolutamente fastidioso e poi c'è questo pagurino che a me sembrava la voce era l'intizzetto ma mi pare fosse proprio lei e poi c'era anche Baby Kay che però doppiava ma fugacemente una ricercatrice ma proprio sono due battute quindi capito se uno non l'andasse a leggere nemmeno si renderebbe conto perché è talmente poco il contributo infatti non capisco neanche perché ripeto magari poi è tutta una faccenda di contratti perché è strano che scomodi un personaggio comunque abbastanza noto per due battute di doppiaggio al litizzetto neanche sto a commentare perché comunque lei ha avuto esperienza in doppiaggio a livello professionistico quindi lei secondo me a doppiare se la cava tantissimo infatti ormai l'ha fatto moltissime volte in cartoni animati e non e quindi una cosa che vorrei dire che non c'entra in sé con il film ma vi è legata è il corto tutti quando andiamo a vedere un film pixar siamo curiosi di guardare anche il cortometraggio che va ad aprirlo allora in il viaggio di Arlo c'era stato Sanjay Super Team che mi era piaciuto tantissimo era quello del bambino che veniva il bambino indiano che veniva costretto a pregare dal padre e si immaginava la divinità come una sorta di gruppo di supereroi in lotta contro il male peraltro era una sorta di storia autobiografica alla fine al corto come arrivano le foto del vero papà di Sanjay perché quel bambino è Sanjay il regista mi pare abbia vinto l'oscar una vallina cazzata mi pare abbia vinto il miglior cortometraggio dell'animazione e mentre Inside Out era stato aperto da lava quello del vulcano che vuoi innamorato dell'altro del altro vulcano che però è sommerso insomma bellissimo anche quello tutto musicale questo invece è Piper quindi quello prima delle ricerche di Dory meno cartonesco degli altri molto più realistico quasi documentalistico se vogliamo ma la cosa bella è il fatto che graficamente sia qualcosa di veramente mostruoso pazzesco che ti lascia alibito perché di solito i personaggi dei corti dei film pixel sono molto cartoneschi qui invece hanno puntato sul realismo ed è la storia di questo personaggio che di fatto è un uccellino un uccellina appena nata che deve imparare ad affrontare la vita sempre sotto la supervisione della mamma ma è bellissimo è tutto ambientato su questa spiaggia ci sono queste onde che ragazzi sembrano vere cioè io non so che tecnica abbiano utilizzato di qui c'è stata una sperimentazione incredibile dal punto di vista animazione tecnica perché hanno sicuramente utilizzato le macchine da presa quelle digitali per l'animazione che riproducono proprio la ripresa di un film in action perché davvero è pazzesco al di là del fatto che è di una tenerezza impressionante è che è una piccola storia di formazione bellissima e per niente banale c'è proprio una storia di crescita nel giro di tre minuti non so come cazzo abbiano fatto veramente hanno proprio hanno un dono di sintesi quelli della Pixar che io io lo invidio cioè basti pensare ad up cioè in up nel giro di quattro minuti ti hanno dipinto una storia d'amore dai suoi albori alla sua purtroppo chiusura tragica ma perché comunque queste cose succedono per cui e io invidio veramente il modo in cui riesco nel giro di pochi minuti a raccontarti storie che abbiano non solo un senso ma che ti facciano anche riflettere che siano profonde questa è una storia tenera che ti fa capire quanto la crescita sia qualcosa di fondamentale quanto sia repentina e inaspettata e questo mi è piaciuto da morire si potrebbe fare un video opposito per Piper davvero è stato un corto meraviglioso per cui la visione e io questo non l'avevo visto ancora perché alle giornate di cena di riccione avevano mostrato solo i primi 20 minuti del film senza cortometraggio annesso per cui la visione della ricerca di Dori è qualcosa di bellissimo proprio per questo proprio perché è una visione 360 gradi anche il corto è fantastico mi raccomando lo dico subito non andate via prima che siano finiti i titoli di coda perché c'è una scena post credits che vi giuro mi ha spezzato da ridere non che narrativamente sia fondamentale ma è una cosa che non ci si aspetta e secondo me vi pentite se non la guardate perché ho sentito molte persone sono andate a vedere i film però non sono rimasti fino alla fine rimanete fino a dopo i titoli di coda perché davvero merita la cosa quindi mi è piaciuto un sacco per cui questa è la ricerca di Dori è l'ennesimo film Pixar che dimostra come i creativi di questo studio di animazione siano dei veri e propri geni perché ci sono delle trovate che sono a dir poco geniali fantastiche perché comunque alcune cose non so come fanno a venire in mente cioè veramente come facciano a pensare a certi risvolti di trama a certe gag non lo so anche perché sono le classiche gag che fanno scompisciare da ridere i bambini che magari non capiscono il loro significato più profondo perché comunque quello è lasciato all'adulto il quale ride di gusto ma per altri motivi è una cosa che avevo già letto per la recensione di Inside Out c'è una scena in particolare in cui magari incontra un personaggio che si vede solo in quel momento e che l'aveva ucciso perché io tra le altre cose ho anche notato il gioco di parole di un nome che questo personaggio pronuncia il bambino difficilmente se ne rende conto perché il bambino è difficilissimo che sappia l'inglese magari il bambino di 7 anni è più difficile che lo sappia a meno che non abbia qualcuno in casa che lo parla frequentemente magari la mamma di origine inglese o americana o cose del genere quindi io che purtroppo anagraficamente sono un adulto però di testa sono un bambino ho riso come un matto per altri motivi i bambini ridevano perché la buffa per il sogno io ridevo perché mi faceva ridere il gioco di parole perché era un personaggio comunque che si diventava di una cosa che un adulto capisce sicuramente meglio quindi devo dire che sono stati sono stati i soliti creativi Pixar quelli che capiscono perfettamente che in ogni adulto c'è un bambino che va solo stuzzicato e si mette a ridere anche lui quindi davvero un film da vedere io come voto gli do un bel un bel otto e mezzo secondo me è veramente è veramente di altissimo livello perché comunque per me Nemo era dall'otto dall'otto al nove quindi questo un otto e mezzo glielo do Nemo io l'ho sempre amato non era forse non lo so però perché in realtà in realtà Nemo alla ricerca di Nemo è veramente è stato anche lui molto innovativo bisogna mettere anche questo è stato parecchio innovativo perché comunque quel tipo di animazione quel tipo di ambientazione non era facile a portare sullo schermo l'hanno fatto in una maniera impressionante se andate a vedere ad esempio Shark Tales carino anche quello ma l'ambientazione sottomarina non era resa bene come nella ricerca di Nemo sembrava proprio che ci avessero provato ma non ci fossero riusciti in maniera ottimale quindi Nemo ha fatto scuola a quel punto di vista quindi sicuramente è uno dei più importanti e se dovessi dirvi tutti i personaggi nuovi non staremo più cioè la recensione finirebbe dopo domani quindi non sto a spiegarvi perché per come sono piaciuti tutti i nuovi personaggi ve lo lascio scoprire anche perché non voglio spoilerarveli non voglio stare a anche perché non c'è bisogno di stare a analizzare la psicologia perché di fatto sono personaggi che magari come anche nella ricerca di Nemo compaiono per poco ma sono abbastanza incisivi quindi ve li lascio scoprire nel film sappiate solo che ne incontrerete alcuni che sono veramente pazzeschi e dico solo questo Gerald è il mio nuovo idolo personale un personaggio che non dice una mazza fa solo versi ed è già diventato il tormentone della settimana cioè Gerald nel cuore per sempre quindi vi consiglio vivamente di andare a vedere la ricerca di Dory non fategli scettici è un film pixel i film pixel secondo me si guardano a prescindere perché comunque ormai hanno dimostrato di essere dei mostri per quanto riguarda l'animazione è una possibilità va sempre data anche se magari in passato possono aver deluso quel paio di volte ma nessuno è perfetto siamo tutti esseri umani il livello dello studio è mostruoso e può solo migliorare quindi livello grafico mostruoso cura dell'alimentazione incredibile cura della storia della psicologia dei personaggi secondo me impeccabile e quindi niente io quello che dovevo dire sul film l'ho detto vi invito a scrivere come uno qua sotto in un commento sotto se non pensate curate se non pensate se non pensate così creiamo la solita area di discussione mi raccomando non fate spoiler senza inserire l'apposita scritta spoiler carattico vitale così non si rovina il film a chi ancora non lo ha visto per cui come sapete vi abbraccio grazie per aver seguito fin qui voglio tanto ma tanto ma tanto bene quindi io aspetto troppo noi ci vediamo al prossimo webblog altrimenti se volete sapere il mio primo specifico e vi interessa capire un po' cosa ho pensato di alcune scene io aspetto da 3 2 1 allora innanzitutto i leoni marini sono stati fantastici cioè a parte la scena del trailer loro che cacciano via i leoni marino gerald dallo scoglio in quel modo cattivissimo per poi tornare sdraiati come se niente fosse la gag di gerald che cerca di rubare lo scoglio ricorre in maniera assolutamente non fastidiosa perché ogni volta c'è una variante e io morì ogni volta quando gli dicono dacci il secchielo dai vieni qui c'è uno scoglio ti faccia venire arriva gli prende il secchiello peppo scaduto lo buttano giù e quindi mi ha fatto ridere quello così come mi ha ammazzato la questione dell'uccello becchi quello che porta i pesci nel secchiello la cosa dell'imprinting la cosa che sia sbarillatissima che abbia gli occhi che girano dove vuole insomma quel personaggio non dice una parola fa solo versi ma è meraviglioso e poi una cosa che non ho detto nella parte non spoiler perché non volevo dirvi nulla anche perché è una mia teoria anche se vedo la cosa come abbastanza evidente è il fatto che alla fine del film Marlin sembra nutrire un sentimento verso Dory che va oltre la semplice amicizia sembra effettivamente interessato da un punto di vista amoroso ora magari è solo una mia impressione ma secondo me è abbastanza lì da vedere però non ce la vedo Dory che asseconda un eventuale corteggiamento di Marlin per il semplice motivo che è un personaggio talmente puro e semplice che secondo me non prova sentimenti che siano diversi dall'amicizia per Marlin o per qualunque altro esemplare maschile magari poi mi sbaglio però mi farebbe strano vedere che Marlin ha messo su famiglia con Dory per l'amor del cielo vengono presentati come se fossero un nuovo nucleo familiare Dory, Marlin e Nemo questo è vero però non lo so mi farebbe strano perché questa purezza di Dory contrasterebbe con un eventuale legame amoroso con Marlin a me Dory piace così com'è ingenua è l'amica Dory non è l'amante capito però non lo so è solo una cosa che mi è venuta in mente e parlando di personaggi secondari vabbè è poi il poema che mi è piaciuto perché perché fondamentalmente è un burbero che vuole stare da solo ha passato dei brutti momenti nell'oceano di cui non parla e sappiamo che ha perso un tentacolo ok quindi ha 7 tentacoli e non 8 la scena divertente di cui parlavo prima è quella del fatto che loro a un certo punto vanno nella vasca tattile e devono scappare dalle mani dei bambini che toccano i pesci e c'è il momento in cui toccano Hank il quale spara l'inchiostro quindi andrescia la vasca e spavende i bambini ora il fatto che Hank continua a mimetizzarsi e quindi riesca a prendere le folle più o meno la forma che vuole come quando compare per la prima volta che sembra che il gatto del posto il gattino appeso a filo stia prendendo vita invece lui secondo me è un'entrata in scena geniale ed è un personaggio che da burbero diventa comunque molto simpatico condescendente alla fine accetta di andare all'oceano dove diventa il supplente del maestro Manta che è emigrato come vediamo all'inizio quindi è bello che anche lui trovi uno scopo non aveva uno scopo e lo trova la questione del ricongiungimento dei genitori con Dory è tenerissima nel senso che il fatto che loro per tutto quel tempo l'abbiano aspettata di aver lasciato la scena di conchiglie non è una cosa imprevedibile ripeto questo film mi è piaciuto un po' meno di Inside Out perché Inside Out secondo me proponeva delle tematiche un po' nuove questo essendo un seguito proponeva tematiche magari non nuovissime però ci sta cioè ne hai capito ci stanno come tematiche quindi il fatto che lei ritrova i genitori con la questione che avevano fatto queste scena di conchiglie gigantesche mi è piaciuto è una scena molto toccante così come la questione del camion con Hank che si mette a guidare il camion che li sta portando a Cleveland per buttare il nuovo nell'oceano la scena in cui il camion sfonda gli alberi e sta cadendo l'acqua con Wonderful World è fantastica cioè io l'ho adorata con tutto il rallentatore quel momento è stato veramente carino quindi devo dire che si sono veramente impegnati per mettere i personaggi in situazioni che fossero effettivamente molto simpatiche quando Mario e Nemo parlano con la conchigliona ecco lì veramente è stato un world of fun continuo per un minuto perché parlano con questa conchiglia che non si sa chi è viene dal nome e dice oh vi prego parlatemi raccontatemi come quella volta che io sono una volta sono uscito con un'ostica oh però le ostiche ti mollano e basta oddio Shelly perché mi ha lasciato la cosa è che Shelly sia un nome che effettivamente esiste ma che richiami Shelly vuol dire guscio in inglese quindi è come se fosse Shelly nel senso di guscioso essendo un mollusco a me ha fatto morire poi il fatto che dal nulla compagnie questo personaggio che si mette a piangere in maniera logorroica delle sue avventure amorose a me è ammazzato perché non avviene proprio nessun senso di esistere questa cosa c'è capito proprio per il fatto che non te l'aspetti che non ha senso narrativamente lo rende geniale perché è un momento comico what the fuck con i due pesci che guardano questi e mi dico chi cazzo è questo c'è capito ma è un momento assurdo che io ho apprezzato e che mi ha fatto molto molto ridere così come è bene il fatto che abbiano spiegato ad esempio come Dory abbia conosciuto Marlin cioè noi vediamo Marlin che incontra Dory dal nulla ma ci siamo mai chiesti Dory effettivamente cosa ha fatto prima io sì e lei ha passato tutta la sua vita a cercare i genitori cioè quello che lei stava cercando era i miei genitori non ha fatto altro che vagare cercando di ricordare loro capito e quando ha incontrato Marlin stava facendo esattamente quello e io questa cosa l'ho trovata bellissima perché vuol dire dimostravo che lei non è cambiata come personaggio come dicevo prima e poi ad esempio il fatto che nella vasca la sua migliore amica la migliore amica di condotto quando erano al parco oceanico fosse lo squalo balena ti fa capire perché lei dice di saper parlare serpentese lei dice di saper parlare serpentese cazzo dico balenese Harry Potter mi ha distrutto la vita scusate sa parlare il balenese capito questa cosa è divertente poi sa un sacco di nozioni che conosce perché se le ricorda inconsciamente da quando le vedeva scritte sui muri del parco oceanico dal vetro della vasca quindi è tutto veramente ben fatto sul serio per cui questo è quello che mi ha colpito maggiormente alla ricerca di noi fatemi sapere voi in un commento il vostro parere più specifico sempre quando assegnando il commento con la distituzione sparare caratteri cubitali nel caso in cui vogliate farne così non rognare il film a chi ancora non l'ha visto io ancora una volta vi abbraccio aridaglie dai abbraccione bello bello spero troppo noi ci vediamo al prossimo nuovo vlog ciao 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 ciao